Salve a tutti e benvenuti nel video di oggi. Quella che vi mostrerò oggi è la luffa, una spugna naturale che noi coltiviamo in azienda. Questa spugna è lo scheletro spugnoso di una curcubitacea. Quindi come curcubitacea è parente delle zucchine e delle zucche. Si semina quindi in primavera con le temperature mildi e si raccoglie il frutto in autunno. Oggi vi porterò con me e prendete la sua crescita in azienda. Durante la fioritura, quando abbiamo il frutto non maturo ancora verde, la sua raccolta e anche la pulizia. Questa luffa è davvero speciale. È una spugna completamente biologica, biodegradabile e 100% naturale e questo vuol dire che non inquina quando la andiamo a produrre, quando la andiamo a utilizzare e quando la andremo poi a buttare. Una volta finita il suo ciclo di vita a casa nostra per la nostra pulizia, per il genere personale o per lavare i piatti, possiamo utilizzarla come faccia natura per i nostri flori oppure semplicemente potremo smaltirla nell'umido. Questa spugna può essere disinfettata. È necessario semplicemente, quando la vediamo esausta dall'utilizzo, metterla in ammello con un po' di acqua e varecchina oppure candeggina. La luffa si sbiancherà, la rimetteremo ad asciugare e sarà pronta all'uso. Adesso andiamo a vedere tutte le sue spazie. Grazie a tutti. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale YouTube e mette mi piace alla pagina Facebook. Guirete le nostre avventure in azienda. vi è piaciuto questo video mettete un po' di acqua di acqua di acqua di acqua di acqua. vi è piaciuto questo video mettete un po' di acqua di acqua.